In altri due ritratti accoppiati, Moulas mette in scena la dimensione del doppio. Si tratta di una stessa immagine ripetuta due volte. Una ritrae Duchamp mentre osserva una fotografia e una mentre solleva lo sguardo. La foto osservata dall'artista contiene a sua volta un'immagine di Duchamp che gioca a scacchi con una modella e l'inquadratura frontale dell'immagine sembra suggerire che l'artista, mostrando una foto, stia giocando a scacchi col fotografo, Ugo Moulas, che in quel momento si trovò di fronte a lui.